mi ha fatto molto piacere che mia madre si sia convinta ad entrare con me perché era una delle mie prime richieste in assoluto che entrassimo tutte e tre insieme perché ritengo che almeno per il mio caso mia madre sia stata fondamentale in tutto e quindi sono stata contenta che l'abbia accettata quando le ho levato il velo è stato un momento in pelle della mia vita giuro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti